Musica Buonasera e benvenuti al tradizionale appuntamento di Guitare in France nel periodo natalizio. E' la festa della chitarra. Su questo bellissimo palco, nella sala del colonne di Casa Magnani, sono veramente lieto di presentarvi bravissimi, eccezionali musicisti e artisti e gli amici della chitarra, tutti docenti dell'Istituto Musicale Rosconi. Questo è il primo appuntamento della stagione musicale cittadina, sostenuta dall'amministrazione comunale di Ro e voglio invitare qui sul palco per un saluto l'assessora alla cultura Valentina Giro. Benvenuta. Grazie e buonasera a tutti gli amici che ci seguono da casa. Quest'anno sarà un Natale un po' strano perché ci mancheranno alcune tradizioni familiari, ci mancheranno alcune persone cari vicino e ci mancheranno anche i numerosi concerti che riempivano di musica la nostra città in questo periodo. Però, grazie all'Istituto Rosconi, una parte di questi concerti sarà disponibile online e potrete seguirla via web così da portare un po' di musica nelle vostre case e portare quel po' di magia che la musica ci sa regalare, quella magia che rende le giornate speciali e che rende le giornate di festa ancora più speciali. Speriamo in questo modo di poter scaldare l'atmosfera del Natale, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, con la speranza e la fiducia di tornare presto dal vivo a vedere concerti, momenti d'arte e di cultura insieme. Noi ci saremo e vi aspettiamo. Buone feste! Speriamo in questo modo 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.